Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente Leo c'è degno della sua presenza. Sono tornato dalle vacanze e siamo venuti qua col masdino che è sempre felice quando piove. E oggi, visto che nell'ultimo video c'è stato un po' di confusione nella seconda parte, diciamo così, e non si è magari capito molto bene quello che è successo, vi risperiamo velocemente con questa cos'era l'idea del Leo e dopo vi raccontiamo bene il discorso S13 con il kit nuovo perché appunto vi spiegheremo bene che kit ha preso Leo. Sì, perché sono mancate delle clip diciamo che ci siamo un po' incasinati, vabbè, insomma adesso vi rispiegiamo tutto a capo così capirete bene cosa succede. E dopo proseguiamo ovviamente con il video nel fare le robe che dobbiamo fare. Quindi con lei cosa abbiamo fatto quel giorno lì praticamente? Allora l'idea iniziale appunto era di rivarniciare i cerchi, pulire la macchina decentemente appunto o per quell'evento che avete visto nel video scorso. Poi infine cosa abbiamo usato? Abbiamo usato l'iron remover di Maniac Line che è una figata perché pensavo che fossero veramente rovinati perché non veniva via lo sporco dai cerchi con i prodotti classici. Con quello lì sono ritornati nuovi, adesso vabbè ovviamente l'ho usata la macchina quindi si sono un po' risporcati però veramente cioè non venivano via, erano completamente neri proprio da ferro. E' fantastico, prodotto eccellente. Poi cosa abbiamo fatto? Siamo andati appunto a farvi vedere il kit estetico nuovo della Nissan perché? Perché cosa è successo? Essendo che ho rotto il fianchetto come avete visto nello scorso episodio che l'ho riparato e tutto avevo cercato altri fianchetti. Il problema è che quei fianchetti che ho trovato non sono giusti cioè nel senso sono giusti però sono diversi da quelli che ho montati. Quindi cosa succede? Dovrei cambiare tutti e due e quindi a questo punto ho deciso di riparare quello. Però quando ho preso il kit essendo che l'ho preso usato l'ho scambiato con il mio rocket bunny che avevo quando ho comprato la macchina e mi ha dato quindi tutto il kit completo che è super figo, ha anche i paraurti dietro, le minigonne, i paraurti davanti e i fianchetti davanti e dietro. Quindi adesso vi facciamo un po' vedere soprattutto i paraurti dietro, le minigonne e cosa che andremo a montare e eccoci giudicate anche voi appunto se vi può piacere o meno. Va bene, andiamo. Andiamo. Ed eccolo qua, appena appoggiato perché appunto nello scorso video l'avevamo riparato un attimino soprattutto da questo lato qua che aveva problemi. Adesso è tutto fisso qua, non ha più crepe. Ovviamente sarà tutto da stuccare, stessa cosa del fianchetto cosa che andremo a fare appunto oggi. E la macchina si presenta così comunque con questo kit, molto molto figa, soltanto che appunto c'è un problema perché noi vorremmo lasciarlo così il paraurti, solo che come potete vedere la targa è tipo quella americana ed è molto piccola rispetto a quella italiana che appunto arriva da qua fino a qua. Quindi dovremo modificarlo tutto e appunto mettere l'altra targa. Quindi ci sarà da fare un po' di tagliacucci, un po' di vetroresina, un po' dovremmo anche migliorarci noi su questo ambito che appunto non siamo super mega pratici, però provando appunto si impara e sbagliando soprattutto si impara. Quindi noi proveremo a fare questo, taglieremo, ripareremo, vorrei anche chiuderli questa parte qua e rifarla uguale. Tutto abbastanza fattibile, l'unica roba è che ci si vorrà un po' di tempo per far tutto e questo. Bene, ora vi faccio vedere anche il resto del kit. Appunto è tutto muccato, è wrappato muccato che è veramente atroce però è lo stesso. Minigonne da riparare, quella lì. Paraurto, che l'hanno tagliato, modificato, non chiedetemi il perché, ma hanno fatto una cosa abbastanza atroce quindi qua bisogna tutto scocciarlo e mettergli la vetroresina dietro per riuscire a ricreare una struttura e stuccarlo. Fianchetti, quelli davanti che sono recuperabili perché comunque dovrebbero essere come quelli, forse un po' più allargati. Spererei di no perché se no mi toccherebbe mettere distanziali e tutto, però nel frattempo quelli sono ancora buoni quindi usiamo quelli. Sono un po' più carini perché hanno delle prese d'aria un po' più piccole e non esagerate come quelle lì che vabbè, che poi quelle fighe finché volete. Ma cazzo, appena usi quella macchina, se c'è un attimo di bagnato avete da lì acqua marrone perché tira su tanta di quella roba con dei buchi del genere. E basta, per adesso appunto questo è il kit. Non vi faccio neanche vedere i fianchetti dietro perché appunto non li andremo a montare, quindi non ha senso. Questo è riparato, è riparato bene, come potete vedere tutto bello socco. Adesso andremo a svrappare questo qua, tutto quanto, a molare un pochettino tutta la fibra di vetro in eccesso e comincieremo a stuccarla, quindi all'opera. Bene, come potete vedere in questa parte qua, adesso stiamo svrappando, ovviamente usando la pistola termica per riuscire a riscaldare bene il wrap, essendo che comunque è vecchio di due anni, quindi è molto secco e rischia di spaccarsi, come potrete vedere. E un lavoro abbastanza lungo perché ovviamente è incollatissimo, quindi ci siamo stati sopra una mezz'ora buona, se non 40 minuti, a continuare a scaldare, svrappare, scaldare, svrappare. Tutto così e alla fine, per fortuna, ci siamo riusciti. Come potete vedere qua il fianchetto si presenta nudo, come potete vedere ci sono tutte queste crepe, che siamo andati appunto a restaurare prima il fianchetto, che andranno coperte. Dremel improvvisati. Bene, ora con questo trapano e una punta da dremel cerco di fare una svasatura lungo la linea di ogni crepa, così facendo mi permetterà appunto di dare lo stucco e riempire molto meglio le crepe e rendere tutto più uniforme. Adesso uso il flessibile per smussare un attimo appunto gli incroci che ci sono stati di fibra di vetro, perché ovviamente era rotto, quindi per evitare appunto che ci siano degli spessori troppo sporgenti, vado a smussare tutto, così dopo anche stendendo lo stucco è molto più facile. Adesso uso un prodotto per riuscire a pulire tutta la superficie appunto dei residui di vetro resina, dopodiché asciugo un po' il tutto, così non abbiamo residui di prodotto, comincio a stuccare, mescolo un attimo l'impasto e comincio a stendere. Ovviamente questo lavoro è abbastanza lungo perché bisogna stare lì, cercare di farlo bene, poi dopodiché bisognerà grattarlo e ovviamente vedere se è stato dato abbastanza o dare altre mani. Quindi intanto continuo a stenderlo e pian piano il processo continua. Arrivati a questo punto, come potete vedere lo stucco si è seccato, ora sono passate un po' di ore perché sono andato avanti a fare altre cose con altre macchine. Adesso è arrivato il momento di levigarlo, lo levighiamo, lo portiamo tutto bello liscio e dopodiché finalmente domani, penso perché ormai è tardi, lo frapperemo un'altra volta. E siamo strastra 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 tanto a buon punto perché dopo frapperemo anche il paraurti dietro e dai si ritorna su strada ragazzi tra poco. Dai Roma vai, se vuole ammolinare. Non lo posso mai mettere. Bene, procediamo. Ora siamo arrivati nella fase della levigatura, appunto il primo passaggio, quindi levighiamo tutto quanto e dopo vediamo effettivamente se andrà ancora a stucco. Bene raga, il Leo è dietro di me stanco, morto, detonato da questa giornata e nel mentre vi dico che siamo avanzati con i lavori, qua il Leo ha stuccato di nuovo un'altra volta. E niente, ci siamo fatti aiutare dal buon Mirko, che ci ha dato una mano di stuccata in più. Comunque mi sa che dovremo ridare un'altra mano ancora, il giorno 2 per voi, quindi tra pochissimo. Dare un'altra mano, poi rigrattare tutto e dai, sta diventando abbastanza bello. Non sarà mai come quando l'ho comprato, perché ovviamente è un po' un casino, essendo che è tanto deforme, visto che ho fatto un bel puzzle qua. Però insomma, almeno la struttura c'è, è tutto più liscio dopo, sarà tutto bello liscio, quindi diciamo che visivamente sarà anche più bello da vedere. E basta, dai, per oggi ci siamo, quindi ci vediamo domani. Bene raga, benvenuti in questo giorno 2 di video. Siamo venuti qua in Cappannone con le 39 e se sentite questo rumore di sottofondo è perché c'è il Leo che si è già messo a grattare lo stucco che ha dato giù ieri. Quindi andiamo subito dentro, adesso vi faccio vedere un po' come si sta evolvendo la situazione. Nel mentre, ovviamente prima non ve l'ho detto, ma oggi siamo venuti con le 39 per portare giù il wrap. Motivo molto semplice, nell'MX5 non ci stava. Ha fatto fatica a starci nelle 39 e insomma fate voi se questa cosa, bislunga, poteva starci nell'MX5 con me dentro anche tra l'altro. Quindi meno male che siamo venuti con le 39, abbiamo portato il wrap apposta e quindi appena il Leo finisce di levigare tutto lo stucco, che ha quasi finito mi ha detto. E procediamo con la pulizia e dopo proviamo a installare il wrap, giusto? Vai, procedi, vai, rapido. Ora comincio a pulire il tutto, prima togliendo con l'aria i residui di stucco levigato. Dopodiché prendiamo un prodottino, il Maniac Line, per riuscire a pulire il tutto prima di stendere il wrap. Comincio a stenderle il prodotto sul fianchetto, dopodiché lo pulisco tutto perché è un momento abbastanza importante, perché se non si pulisce bene la superficie, essendo che il wrap comunque è elettrostatico, si attacca tutta la polvere o tutti i residui che potrebbero esserci sulla superficie. Cominciamo a tagliare il wrap per prendere un attimo le misure del fianchetto e poi cercheremo di stenderlo. Bene, arrivati a questo punto, finalmente possiamo wrappare, come avete appena visto ho ancora un po' di pellicola che mi è avanzata e dovrebbe abbastarci. Facciamo questo pezzo, l'abbiamo appena pulito, adesso cominciamo a stenderlo e saremo in tre a fare questa cosa perché questa è la parte una delle più complicate della macchina, soprattutto per colpa dell'antenna, che potevamo togliere sì, ma non l'ho fatto perché sono stupido. E questa parte qua, che questa qua è la parte più incasinata nel wrap perché ha quattro angoli che tirano e sarà stra difficile. Quindi cominciamo, che se no ci metti a una vita e appunto avremo l'assistenza di Edoardo e del Bomber che è dietro la telecamera. Via! Ora tagliamo il wrap sopra la macchina per riuscire a mantenere più wrap possibile che può sempre servirci per altre cose, per esempio le prossime minigonne che andremo a mettere. Facendo questo abbiamo più o meno un'idea del fianchetto come deve diventare e cominciamo appunto a stenderlo. Da qua inizia diciamo il lavoro più difficile perché in sé non è molto difficile wrappare, il problema è che è molto lento, bisogna essere in 2-3 per semplificarsi la vita. È un continuare a mettere, rimettere, togliere, provare a vedere, scaldare, tirare. Insomma è abbastanza lungo, voi lo vedrete abbastanza rapida come cosa ma in realtà comunque ci vanno dietro un'oretta buona se non di più. Poi la parte diciamo che ci ha complicato un po' di più le cose è che essendo che questo wrap qua lo comprai ancora due anni fa, quindi diciamo che è un po' invecchiato, non è più elastico come la prima volta. Quindi è stato un po' più difficile, quindi bisognava scaldarlo un po' di più, stare attenti che non si stirasse e soprattutto che non si strappasse. Però comunque siamo riusciti ad ottenere il risultato voluto. Bene, questo è il risultato finale, siamo riusciti ad arrivare alla fine, è venuto veramente bene, però ovviamente come potete notare manca il paraurti. Quindi passiamo direttamente al giorno 3 e andremo a finire il paraurti nuovo. Bene, oggi cosa andremo a fare? Andremo a wrappare il paraurto nuovo che è arrivato. Quindi adesso c'è Eddie che sta pulendo intanto il tutto e dopodiché appunto prenderemo la pellicola che è lì e lo frapperemo. Quindi oggi vedrete questo. Dopo proviamo a montarlo, vediamo come è fitta il tutto e soprattutto andremo a fare le staffe, come vedete ho già tagliato qua, ho fatto già i buchi per farci stare la targa. Faremo delle staffe qua, soprattutto qua sotto, per riuscire a tenerla attaccata, la targa tipo così, così qua sotto ci sono le luci e tutto si vede bene. E insomma, iniziamo. Ovviamente anche qua, come il fianchetto davanti, ci vuole sempre del tempo, soprattutto per i paraurti che sono le parti un po' più complicate. Ovviamente ci sono abbastanza ore di lavoro dietro per fare questo paraurti qua e soprattutto anche diviso in pezzi. Perché primo, non avevamo più wrap perché ormai eravamo arrivati alla fine e secondo, è l'unico modo per riuscire a fare un lavoro fatto bene. Come potete vedere siamo arrivati praticamente alla fine del paraurto. Guarda che bello. Eccolo lì, ve lo faccio vedere anche da questa parte. Ecco, adesso stiamo facendo le ultime parti dentro. Dopodiché facciamo i buchettini per la targa, proviamo a montarlo e top. Abbiamo montato le luci targa, adesso le stiamo spellando perché le avevo tagliate, per toglierle praticamente le abbiamo messe. Sì, sono deficiente, sì, ok. E montata anche la targa, in questa maniera qua. Adesso tra poco quando giriamo il paraurti vi faccio vedere. E top. Ed eccolo qua raga. Ecco la targa, tutto bello. Avrà le lucette, rosso. Ora attacchiamo le lucette alla macchina e lo montiamo. Il paraurto montato, questa è la macchina. Non è così, ovviamente dopo ci saranno da montare quello e più le minigonne. Però nel frattempo lo lasciam così. Primo perché non abbiamo più wrap. E il secondo perché comunque è abbastanza carino. Ovvio non l'abbiamo montato del tutto, come potete vedere c'è un po' di sbacio lì sotto. Però questo è il paraurto finito. E ci sta un sacco. Andiamo anche da questa parte. Super bella. La fa un po' più giappo ecco diciamo. Bene raga, dopo aver visto le clip del risultato finale del paraurto. Questa è la macchina. Appunto è venuto veramente bene. Adesso c'è il dubbio appunto sul tenere queste minigonne qua. Oppure mettere le altre minigonne che avete visto in precedenza. E un attimo da capire. Fatecelo sapere nei commenti appunto questa cosa. E ricordatevi che prima di finire il video, se ci tenete di traverso e vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi al canale che ci fa un enorme piacere. E ovviamente ci fa anche crescere e fare progetti sempre più fighi, come quelli che vedrete a breve. E questo. Esatto. Quindi, cosa volevo dirvi? Adesso andiamo avanti con la macchina del Bomb. Perché praticamente dobbiamo cambiare tutti gli interni. E dargli una bella rinfrescata. Perché quella macchina lì sarà molto importante per noi. Perché appunto al gancio traino prenderemo un carrello più avanti. Quindi potremo trasportare i mezzi in giro. E soprattutto poi salderemo il diff. E soprattutto è l'unica che funziona. Sì esatto. Funzionano tutte. Però insomma è l'unica che consuma poco. Va bene. Può trainare. Più avanti ci salderemo anche il differenziale. Quindi ci sarà un video dedicato a quello. Come saldare il differenziale. Come bisogna fare. Quanto è un casino farlo in un serie 5, in un BMW. In generale. E tutte queste cose qua. Nel frattempo andiamo a fare gli interni. Così potrete vedere anche voi appunto la rinfrescata dell'autoveicolo. Mi stanno chiamando. Pronto? Bene è finita la telefonata. E cosa volevo dire? Prendiamo la macchina. Spostiamo il gnatini di Edo. E buttiamo dentro il cacatone. I gnatini. Era per dire che era piccolino. Aspetta portiamo dentro il cacatone. E cominciamo. Dai Roma. Dai. Bene raga. Allora abbiamo portato dentro le 39. E come vi ha appena detto Leo. Adesso il programma è quello di cambiare tutti gli interni da interni in tessuto. Cioè quelli con cui è uscita originariamente dalla fabbrica questa macchina. Con degli interni in pelle. Che vi avevo fatto vedere in qualche video precedente. Se vi ricordate. Se no ve lo metto qua sopra. Andate a rivedervelo. Che avevo fatto un breve pezzettino. Ve parlavo appunto degli interni e delle 39. E intanto ve li porto qua così vi vedete un attimo. E se riusciamo andiamo a cambiare interni e pannelli porta con un interno completo in pelle. Quindi adesso con calma cominciamo. Metterò qua le robe stese qua davanti così le potete vedere bene. E dopo cominciamo col lavoro. Vi faccio vedere quello che ho preso. Ovvero coppia di sedili anteriori in pelle messi anche abbastanza bene. Questo qua ha un po' di segni del tempo lì. Però senza graffi. Senza tagli, strappi e cose. Quindi sono messi entrambi bene. Questa è la panca dietro che così sembra un po' stanchina e con poca voglia di vivere. Ma dopo presto tornerà sulle sue. E questi sono i pannelli porta che vediamo se cambiare questa sera. Perché hanno queste modanature nero lucido. Di cui io sinceramente non me ne faccio nulla. Su tutte e quattro le portiere. Tra l'altro quindi dovremmo capire se si riesce a toglierle. Per rimpiazzarle con la radica che c'è dentro la macchina. Oppure vedremo in ogni caso queste sono un po' un bonus che vediamo se riusciamo a far dopo. Poi ovviamente vedrete che mancano i poggi a testa. Perché purtroppo nelle 39 sono incorporati nella cappelliera dietro. Se vedete qua. Sì vabbè come ha detto Edo in tutti i BMW sono incorporati nella cappelliera dietro. Quindi sono in realtà montati su questo pezzo. E non attaccati ai sedili come magari su altre macchine. Quindi sostanzialmente per toglierli bisogna anche togliere tutta la cappelliera. Poco male perché il colore della cappelliera è piuttosto tendente al viola scolorito. Quindi adesso vediamo di capire se riusciamo a togliere anche quella. Quindi direi che possiamo cominciare. Mentre Leo capisce come sistemare i casini. Sì, questa qua vabbè la puntata Edo te la lasciate lo schifo. Ma questa qua sarà l'uscita. Cioè lo screamer. Lo screamer pipe della gate esterna. Nel miettino turbo. Quindi adesso dobbiamo fargli tutta la cosa con la V-Band qua a saldarla un attimo bene. E dopo con il tubetto che va giù vicino alla ruota lì insomma lì sotto. Bella. Dopo sfiamma rai qua sotto. Così però. Più o meno. Bene adesso abbiamo veramente tutto. Qua ho aggiunto altre un po' di cacate tra cui poggiatesta. E altre cose che probabilmente non tutto cambieremo. Cioè probabilmente non cambieremo tutto ma valuteremo man mano. Anche in base al tempo e alla voglia che ci abbiamo. Edo si è già messo all'opera. E Leo pure. E qua che salda. Quindi basta raga direi che è arrivato il momento di metterci all'opera. Allora raga brevemente facciamo il punto della situazione. Qua abbiamo tolto tutti gli interni. Come potete vedere rimangono solo i pannelli porta che vediamo un attimo cosa fare con calma. Intanto qua come potete vedere c'è un bel tot di sporcizia. Quindi prima di rimettere su i sedili nuovi andiamo a dare una pulita così vi faccio vedere anche un po' di prima e dopo. Allora raga velocemente vi faccio vedere la differenza tra i poveri sedili vecchi. Che ovviamente adesso sono anche parecchio sporchi. E questi qua sono i sedili vecchi in tessuto. E questa è la differenza con i sedili che andremo a montare. Cioè quelli in pelle che sono uno più belli ovviamente. Ma sono anche messi abbastanza meglio. Anche se la macchina da cui li ho presi più o meno aveva penso lo stesso chilometraggio della mia. Questa è la differenza tra i sedili in tessuto originali. Che come potete vedere sentono particolarmente i segni del tempo. Qua è dove c'era la cintura e qua era dove c'era il poggiatesta. E questo è il colore originale dei sedili. Invece qua potete vedere la notevole decolorazione degli stessi. E questa appunto è la differenza tra quelli originali e quelli in pelle che andremo a montare. Che adesso se li vedete così fa schifo. Ma tra un secondo grazie anche al buon Edo. Andiamo a dargli una bella pulita a questi. E li sistemiamo per bene e poi li montiamo su una macchina. Ciao! 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 bene raga allora in questo momento è un po tardino i ragazzi se ne sono andati e quindi sono stato tra virgolette obbligato a montare il sedile di guida perché giustamente dovevo tirar fuori la macchina del cappannone per mettere dentro l'S13 la quindi adesso non ci resta che proseguire con il montaggio del sedile anteriore di tutta la panca dietro che è qua un po sommersa di roba ma una cosa che in realtà devo fare prima di tutto è togliere i due poggiatesta vecchi quindi in tessuto bene raga allora dopo numerose bestemmie perché le cose ovviamente sono sempre più facili da togliere che da rimetter su però siamo riusciti a venirne a capo update velocissimo raga panca dietro dentro completa un poggiatesta compresi e adesso manca solo il sedile davanti che metteremo in un battibaleno spero perché quello dovrebbe essere semplice allora dopo alcune mezz'ora e diciamo e altre numerose altre bestemmie siamo riusciti a concludere tutto io ce l'ho qua dietro di me e tra pochissimo ve lo faccio vedere e il risultato mi piace molto vabbè non è che sia niente di fuori dal mondo sono dei semplici sedili in pelle però con la scusa che appunto come avevo fatto vedere prima quelli in tessuto erano parecchio rovinati e non li butterò via comunque li terrò magari per i periodi caldi visto che non è che me ne freghi tantissimo se sono rovinati e tutto era giusto da cambiare un po visto che ho avuto l'occasione appunto io sono grande fan di sedili in tessuto d'estate perché almeno non ti cuoci il culo quando ti siedi perché banalmente avendo la macchina nera capitando spesso che io la lasci fuori e avendo i sedili in tessuto perlomeno non mi cuocio nel momento in cui mi siedo sulla macchina detto questo direi che è arrivato il momento di farvi vedere il risultato finale e eccoli qua doppietta di sedili in pelle davanti tutti belli puliti grazie ai prodotti che abbiamo usato prima passiamo ai sedili dietro che vi ho fatto vedere brevemente ma senza le lucine viola sono molto contento più che altro perché sono messi estremamente bene e sono anche venuti estremamente bene pulendoli adesso direi che è giunta per me l'ora di andare a casa visto che è tardi e sono parecchio stanco vi terrò aggiornati su come mi trovo con questi sedili e quindi raga a me non resta altro da fare che ringraziarvi se avete guardato il video fino a questo punto ovviamente se non l'avete già fatto vi ricordiamo di iscrivervi così potete vedere tutte le vicende delle 39 e di tutte le altre macchine che avete visto in questo video e ovviamente anche tutto il resto e detto questo noi ci vediamo al prossimo video e rimanete sempre con di traverso